E' Tullio Marchesi, 61 anni di Pesaro, deceduto durante la notte scorsa mentre era ricoverato al San Salvatore di Pesaro il secondo paziente condagiato dal coronavirus. Lascia la moglie e una figlia. Ma sale inesorabilmente e anche in maniera esponenziale il numero dei positivi. Per questo in serata il governatore Luca Ceriscioli ha deciso di estendere per contenere la diffusione del virus, la sospensione delle attività di ghedattiche e le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura anche al resto della regione Marche. Nella nottata è terminato l'esame dei 54 tamponi effettuati ieri dalla S.O.D. Virologia di Torrette, rivelandone altri 26 positivi. Salgono quindi a 61 in totale i casi in regione, di cui 55 solo nella provincia di Pesaro, 5 in quella di Ancona e il primo a Macerata, quest'ultimo proveniente dalle zone a rischio. La politica oltre a prendere posizione sull'argomento incomincia anche ad essere interessata personalmente. Questa mattina una consigliera regionale ha dovuto lasciare l'assise, aveva manifestato sintomi febbrili e un dolore intercostale nella zona dei polmoni. Per precauzione ha preferito tornare a casa e seguire le indicazioni del numero 1500. Anche la seduta del Consiglio Comunale di Fano, che avrebbe dovuto tenersi domani e anche quella del 12, è stata rinviata a data da destinarsi. Il sindaco di Montegranaro, poi Ediana Mancini, è in isolamento con tutti i familiari. La consigliera regionale Jessica Marcozzi di Forza Italia, già stamattina, vista la notizia del secondo decesso di Ramata dal Gores e il silenzio del Governo centrale, auspicava una presa di posizione del Governo sull'estensione delle misure anche alle altre province. Ma alla luce dei dati forniti nella seguta odierna del Consiglio regionale, oltre all'estensione delle misure alle altre province, si aspettavano anche misure economiche per sostenere le imprese in questa delicata fase. Ma quello che è ancora peggio, noi oggi ci aspettavamo che oltre a conoscere le dimensioni di questa vicenda che sta preoccupando tutti, ci fosse anche qualche proposta economica a sostegno dell'economia, in modo particolare del commercio, del turismo, che in questo momento ci arrivano messaggi continui da imprenditori che sono veramente molto preoccupati per la perdita dei clienti, per la perdita dei fatturati e per qualche misura che tutti quanti onestamente ci aspettavamo al di là di conoscere i numeri. Credo che dopo una settimana almeno sospendere i pagamenti, fare in modo che ci fosse un aiuto concreto, un sostegno economico alle imprese, qualcosa oggi doveva esserci sinceramente. Inoltre la cosa più assurda che abbiamo scoperto questa mattina è che l'ufficio per il terremoto ha sospeso molti appuntamenti, visto che è in ritardo su molte consegne ed è oggetto già di critiche per i ritardi sul terremoto, oggi in disposizione del coronavirus hanno allentato ulteriormente gli appuntamenti e gli incontri, le riunioni sull'intervento per il terremoto. Questo fa ulteriormente dispiacere perché così questa regione davvero viene martoriata e non si rialza più.